Il secondo mandato del sindaco di Romano Dezzellino, Simone Bontorin e della sua squadra, inizia così. Primo consiglio comunale, sul tavolo, oltre al giuramento del sindaco e alla presentazione della giunta, ci sono da approvare quattro varianti urbanistiche di grande importanza per il paese. Ebbene, tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza ci sono, ma clamorosamente non si presenta nessuno dell'opposizione. Un'assenza che fa rumore ed è un rumore stonato. I cinque consiglieri di Romano per tutti restano a casa, compresa Rossella Olivo. Un gesto fortemente stigmatizzato dai presenti e da chi ha visto in questo comportamento una mancanza di rispetto, un tradimento nei confronti di quei cittadini, poco meno del 16%, che alle ultime elezioni avevano scelto Olivo e la sua squadra. Una minoranza, rispetto alla valanga di voti e preferenze portati a casa da Bontorin e un cuore in comune, che tuttavia merita di essere rappresentata. E allora c'è già il forte coro di voci che chiede un atto di responsabilità, un passo indietro di Olivo e di chi non dovesse sentirsela nel portare in consiglio la voce della minoranza. Insomma, dopo la campagna elettorale condita di veleno, anche l'inizio della nuova legislatura fa rumore. Il rumore del silenzio.